In questo video ti mostrerò le migliori smart tv OLED attualmente disponibili a livello di qualità prezzo e ti aiuterò a scegliere il miglior modello in base alle tue esigenze Tutti i link ovviamente sono qua sotto nella descrizione Ed eccoci qua su Amazon ragazzi Dunque in questo video andremo a vedere esattamente questi 4 modelli li andremo a vedere uno ad uno e sono rispettivamente i migliori a livello di qualità prezzo a partire dai migliori per quanto riguarda la fascia di prezzo più economica fino a quelli di fascia ovviamente più alta Partiamo quindi con il miglior modello per quanto riguarda la fascia di prezzo più economica con le leggi OLED B3 Questo ovviamente è considerata la misura dei 55 pollici visto che parte da questa Se poi volete un modello leggermente più piccolo sui 48 o 42 pollici è anche disponibile le leggi OLED C3 che è anche la misura più piccola e quindi in questo caso può essere anche più economico Torniamo quindi all'OLED B3 questo è perfetto in qualsiasi situazione ad esempio possiamo utilizzarlo in una stanza buia o con poca illuminazione e l'immagine sarà perfetta grazie al suo contrasto dove il nero sfruttando ovviamente la tecnologia OLED sarà perfettamente nero e non avrà il classico effetto grigiastro come molte smart TV LED quindi l'immagine sarà perfetta da visualizzare anche al buio sia per i contenuti in SDR classici come film video su internet ma anche con i contenuti in HDR visto che ha un'ottima luminosità e permette di sfruttarlo appieno grazie anche al suo contrasto quindi è perfetto sia per i film più vecchi o comunque le serie TV e film più recenti non solo al buio potremo anche utilizzarlo ad esempio di giorno magari in un salotto anche ben illuminato ha una luminosità abbastanza alta per vedere correttamente l'immagine ma tenete in considerazione che ad esempio il modello C3 ha una luminosità ancora superiore quindi visto che si trovano a cifre molto vicine magari vi consiglio anzi di puntare su questo se volete utilizzarlo principalmente in una stanza illuminata se poi questa stanza è particolarmente illuminata e fa molta fatica a vedersi correttamente la vostra smart TV allora vi consiglio anzi di andare sul loro modello G3 che ha appunto come punto di forza la sua altissima luminosità trovate la recensione di questo modello qua sotto in descrizione tornando al B3 questo modello è perfetto anche per i contenuti con molto movimento o azioni sullo schermo come possono essere appunto i film d'azione, i contenuti sportivi, anche i videogiochi tutti i movimenti saranno perfettamente realistici e non lasceranno sfocature a schermo grazie al suo ottimo tempo di risposta aggiungo che l'effetto è molto buono grazie anche al fatto che il pannello va a 120Hz ottimo anche il suo upscaler dei contenuti questo trasformerà qualsiasi contenuto in 4K come ad esempio un film vecchio, una trasmissione televisiva magari un vecchio DVD o anche dei video su YouTube in automatico in 4K il risultato è molto buono è praticamente tra i migliori in assoluto ed è secondo soltanto ai modelli high-end di Sony diciamo che la resa è davvero molto buona e questo cambia soprattutto per quanto riguarda quei contenuti che ad esempio si trovano a risoluzioni molto basse come può essere il 720p diciamo che ovviamente se un contenuto è in full HD o 1440p normalmente l'upscaler non fa troppa fatica a farlo vedere correttamente per quanto riguarda invece risoluzioni molto basse qui è dove si vede la differenza tra un modello con un buon upscaler e un upscaler scarso diciamo che questa è la differenza principale tra questo modello e il modello scorso ovvero le LG OLED B2 come risultato finale comunque rimane leggermente inferiore rispetto al suo modello superiore ovvero il C3 che come potete vedere è leggermente migliore tolto però questo è tra i migliori in assoluto i tolti gli high-end appunto di Sony molto buono anche il suo angolo di visione anche le persone posizionate ai lati come possono essere i nostri amici o dei familiari potranno vedere correttamente l'immagine come quelle posizionate al centro parliamo ora invece del suo unico difetto alcuni colori tendono a non essere abbastanza vividi quindi il mio consiglio è quello di aumentare leggermente la saturazione per ovviare a questo problema è perfetta anche per quanto riguarda il gaming dietro a 4 porte HDMI di cui 2 HDMI 2.1 quindi potremo sfruttarle per PlayStation 5 Xbox Series X per utilizzare il 4K 120Hz inoltre supporta anche il VRR per ridurre lo strappo a schermo inoltre ovviamente ha una sua game mode per abbassare l'input lag e avere i nostri comandi istantanei a schermo passiamo ora al modello che più vi consiglio in assoluto a livello di qualità prezzo con l'LG OLED C3 questo modello è uno dei pochi che celle praticamente su tutti quanti gli aspetti è anche uno di quelli con il migliore upscaler e comunque con un prezzo molto contenuto rispetto agli altri modelli è la fascia di mezzo tra il modello LG OLED B3 e il modello LG OLED G3 anche questo modello è perfetto in qualsiasi situazione ad esempio in un salotto molto illuminato l'immagine è comunque perfettamente visibile ad esempio i riflessi vengono gestiti molto bene quindi non crea problemi sullo schermo e allo stesso tempo ha una luminosità massima molto alta che permette comunque di vedere correttamente l'immagine questo è ottimo sia per i contenuti normali in SDR sia per quanto riguarda le serie tv e film più recenti in HDR è perfetta anche al buio grazie al suo contrasto dove il nero non avrà alcun effetto grigiastro e sarà molto profondo anche questa è perfetta per i contenuti con molto movimento sullo schermo non lascerà alcuna sfocatura quindi perfetta per serie tv, film o comunque programmi sportivi e anche videogiochi i movimenti sono lisci e molto realistici grazie alla presenza del pannello a 120 Hz sicuramente il suo punto di forza principale è l'upscaler dei contenuti questo è tra i migliori in assoluto ed è secondo soltanto ai modelli high-end di Sony quindi su questa cifra è impossibile trovare un modello con un upscaler migliore questo vuol dire che qualsiasi contenuto che non sarà in 4K sarà visualizzato alla sua massima qualità possibile quindi film vecchi, trasmissioni televisive, video su YouTube o comunque film che non troviamo nativamente in 4K avranno un'ottima qualità come potete vedere dall'immagine riesce a rendere definite le immagini senza rovinare i bordi e senza che abbiano quell'effetto troppo bozzato molto buona la riproduzione dei colori questi sono perfettamente vibranti e non soffre del problema che ha il B3 ovvero dei colori che tendono a non essere sempre vividi la qualità dell'immagine è molto buona ed è superiore al modello B3 inoltre anche il processore è più performante e non ha rallentamenti questo modello è perfetto anche per quanto riguarda il gaming dietro a ben 4 porte HDMI e tutte e 4 sono HDMI 2.1 quindi sono perfette per il 4K 120Hz con PlayStation 5 Xbox Series X la qualità dell'immagine è molto buona e grazie al suo contrasto perfetto l'immersività è ancora migliore ovviamente ha tutte le funzionalità avanzate di gaming e una sua game mode che permette di avere un basso input lag e avere i comandi istantanei a schermo supporta ovviamente il VRR e potremo giocare a 120Hz in 4K i movimenti sono perfetti e non lasceranno alcuna sfocatura a schermo né effetto ghosting passiamo ora al Samsung S90C un ottimo modello a livello di qualità prezzo pensate che la qualità dell'immagine è paragonabile a quella del Sony A95L nonostante il prezzo sia decisamente molto più basso devo però fare una premessa molto importante a mio parere questo modello ha un difetto abbastanza marcato questo modello è perfetto per i contenuti ad alta risoluzione e alto bitrate che possono essere appunto il 4K 1440p mentre invece con i contenuti a bassa qualità e soprattutto basso bitrate il suo content smoothing è davvero molto scarso è decisamente inferiore ai modelli di LG OLED e soprattutto ai modelli di Sony dove cercano di aumentare la qualità quindi se magari guardiamo in streaming un contenuto a bassa risoluzione e basso bitrate sappiate che soprattutto nelle immagini scure potrebbero vedersi dei blocchi e la qualità purtroppo non viene migliorata a livello software come appunto accade in molti altri OLED che si trovano su questa fascia di prezzo quindi è perfetto finché si parla appunto di alta risoluzione ma quando si parla di soluzioni scarse tende appunto a non essere il massimo ottima invece la sua luminosità quindi si può posizionare tranquillamente in un salotto e non avremo alcun problema di visione nonostante la luce proveniente dalle finestre anche al buio si vede correttamente grazie al suo contrasto perfetto dove i neri saranno profondi e non avrà l'effetto grigiasto perfetto anche per l'HDR il display è abbastanza luminoso per farlo vedere correttamente quindi sia per le serie tv più recenti sia per i film che per i videogiochi sarà perfettamente visibile sia in HDR che in SDR sia di giorno che di notte ottimo anche l'angolo di visione anche le persone posizionate ai lati vedranno correttamente l'immagine ottimo anche il suo tempo di risposta quindi tutti quei contenuti con molto movimento sullo schermo come film d'azione, programmi sportivi o videogiochi non lasceranno alcuna sfocatura e il movimento sarà perfettamente realistico ottimo anche per il gaming potremo tranquillamente giocare in 4k 144Hz ovviamente ha una sua game mode per modificare l'immagine e avere un basso input lag con i nostri comandi ottimo anche per quanto riguarda il gaming potremo utilizzare il 4k 120Hz e tutti i movimenti sullo schermo sono perfettamente fluidi senza alcuna sfocatura né artefatti o problemi di tipo ghosting ha anche ovviamente una sua game mode per ridurre l'input lag e avere i comandi istantanei a schermo diciamo quindi che ve la consiglio soprattutto per i contenuti ad alta risoluzione ma a parità di prezzo se devo sceglierne una andrei anzi sull'OLED C3 visto che appunto con molti contenuti a basso bitrate e l'appscaler in generale il risultato è decisamente migliore passiamo ora al Sony A95L se state cercando il meglio del meglio senza badare a spese sicuramente questo è la migliore smart tv attualmente disponibile prima di tutto è la migliore smart tv se uno vuole un home theater perfetto infatti come HDR ha il migliore e sfrutta l'HDR Dolby Vision la qualità di questo è veramente incredibile il pannello è di tipo QD OLED i colori sono estremamente vibranti e il risultato è molto bello ma soprattutto molto realistico anche questo modello è perfetto in qualsiasi situazione sia di giorno magari in un salotto molto illuminato da parte delle finestre sia di notte o comunque in una stanza poco illuminata grazie al suo contrasto perfetto dove il nero sarà perfettamente scuro e non avrà l'effetto grigiastro è perfetto per film e serie tv grazie soprattutto al fatto che l'HDR ha un'ampia gamma di colori questo unito ovviamente alla sua luminosità e il suo contrasto permette di avere la migliore qualità attualmente disponibile le serie e film tv saranno viste come effettivamente le ha ideate il creatore perfetto anche l'angolo di visione anche le persone posizionate ai lati vedranno correttamente l'immagine perfetto anche il suo tempo di risposta quindi tutti quei contenuti con molto movimento sullo schermo come film d'azione, programmi sportivi, videogiochi non lasceranno alcuna sfocatura e il movimento sarà perfettamente visibile e realistico sicuramente il suo punto di forza è l'appscaler per quanto riguarda Sony questa è sempre stata considerata il leader degli appscaler è l'unica azienda che per quanto riguarda i contenuti veramente a bassissima risoluzione Resha Portale ha un'ottima qualità senza rovinare i bordi e allo stesso tempo senza bozzare l'immagine in particolare per quanto riguarda questo modello è considerato il migliore in assoluto e quindi qualsiasi cosa andremo a visualizzare sappiamo già che avrà la migliore qualità possibile questo aiuta soprattutto per quanto riguarda quei contenuti veramente a bassissima risoluzione come 720p 480p passiamo ora al gaming ha una feature molto interessante chiamata Perfect 4 PlayStation 5 in poche parole una volta che avviamo la console mette in automatico le migliori impostazioni per visualizzare correttamente il nostro videogioco ovviamente ha tutte le altre funzionalità avanzate di gaming come basso input lag, VRR, HDMI 2.1 per avere il 4K a 120Hz insomma se volete il meglio del meglio sicuramente questo è il miglior modello attualmente disponibile in conclusione vi consiglio tutti e quattro i modelli ma se devo sceglierne uno se non voglio spendere troppo e magari avere un'ottima qualità sicuramente andrei sull'LG OLED C3 mentre invece se voglio migliore qualità in assoluto senza badare troppo a spese sicuramente il Sony A95L è l'altro che più vi consiglio tutti i link sono qua sotto in descrizione al prossimo video grazie a tutti